Signor Questore, al di là dei numeri che indicano come ci sia un notevole miglioramento di tutti i dati, di tutti i parametri, lei ha sottolineato un aspetto, la vicinanza degli uomini dalla Polizia di Stato alla gente. Sì, noi al di là dei momenti eclatanti delle grandi operazioni di Polizia giudiziaria abbiamo cercato di evidenziare l'aspetto di sostegno alla vita comune, alla pacifica convivenza che il societatino intende e desidera avere. Quindi il sostegno a qualsiasi loro esigenza, anche quella che apparentemente può essere minoritaria, la vicinanza alle fasce deboli, l'essere vicino ai ragazzi per cercare in qualche modo di contribuire a creare una mentalità e un percorso sempre più vicino alle istituzioni e alle legalità. Abbiamo trovato anche questi quattro momenti che abbiamo fatto quest'anno come momento di sintesi e di vicinanza alle persone. Credo che abbiamo intensificato anche la nostra presenza sul territorio, raggiungendo anche una presenza di battugliamenti e di vicinanza. Il poliziotto di quartiere ne è un esempio che ci consente di dire che noi ci siamo stati, come probabilmente il motto della nostra festa ha detto quest'anno. Quindi voglio dire la presenza, il fattore educativo, la disponibilità, il rigore nelle direttive sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni della Polizia Amministrativa sono un piatto e un condimento generale di quale ci compiaciamo senza essere autoreferenziali, che sono il migliore trampolino per chi continuerà a lavorare in questa questura per fare sempre meglio.